Siamo all'interno del taxi di Roma. Elisa è quella che riprende. Ci troviamo nella camera de hotel a Londra. Questa è l'entrata piccolina. Dietro abbiamo questo bagno, fatto tutto tondo, soprannominata capsula. Infatti se entriamo, sembra di essere letteralmente in una capsula. Qua c'è l'abandino, qui con cose, la spineo che è diversa da quella italiana, il latte senza video e la tuscia. Eccola qui. E questa è l'uscita. Poi, chi dà l'alice? Di qua abbiamo il letto. Il letto è diviso. Qua davanti abbiamo la tv. Con la parete, con i disegni. Di fianco al letto ci sono questi comodini con le spine. Qua ho già attaccato la mia. Poi abbiamo la scrivania. Non so se per le cose per fare il tè o non lo so. La tenda, con fuori una vista bellissima, su un altro palazzo. Poi, questo armadio. Dentro possiamo trovare un phon, un tivo, più tante cose. Lassù c'è gli altri cuscini e basta. Questa è piccolina, ma accogliente. E niente, vi lascio con la mia fantastica cover. C'è un film molto basico. C'è un film. Rote gate, la rote tende. C'è un po' con la bellissima e la ropa. E' tutto. però è stato il più busiesto porto del mondo in quei giorni, 9.5 milioni per ogni anno, per circa 40 anni. Ora camminiamo sul ponte, mamma mia, che brividi, mamma mia, se uno ci pensa si sente male. Wow, incredibile, se soffri di vertigini ti caghi sotto e io mi starei cagando sotto, no non è vero, guarda la barca che gli passiamo sopra, che figata, incredibile. Lì c'è un pezzo di Londra, e lì c'è l'altro lato del ponte. Questo è l'ingresso per i gioiali della regina, e questa è la megacoda, ci tocchè la faccia. E continuo, fino laggiù in fondo, minimo, minimo, non ricco. Wow, cosa abbiamo qui? Guarda che bello, quello è un cucari, in argento, si chiama cucari, taglione reale a cucinieri. Sì. Grazie. 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 Ok, questa è la torre delle torture, dove torturavano la gente. Qui li tiravano, qui li tiravano, qui li tiravano, qui li appondevano. Grazie. Grazie a tutti.